Non può nulla il viceglie allo strapotere della regina che al granillo per la terza giornata del girone C di Serie C passa a 3-0 infliggendo il primo dispiacere della stagione agli uomini di Rudy Vanoli. Il tecnico nero-azzurro stellato si affida al 4-3-1-2, risponde invece Toscano con il 3-5-2 dopo un forcing iniziale degli Amaranto e Corazza a sbloccare il risultato al minuto 21 grazie a un'imbeccata di un ispiratissimo Nicola Bellomo su cui Casadei questa volta non può far nulla dieci minuti più tardi e il copione è lo stesso Bellomo serve con un filtrante delizioso Garufo che mette a segno la rete del 2-0 Vanoli mischia le carte ma la differenza tecnica è troppa tra le due squadre nel secondo tempo arriva anche il tris dei calabresi ancora una volta il fantasista di Barivecchia batte una punizione su cui si fionda Bianchi più lesto di tutti con una zampata a fare 3-0 finisce così con il viceglie che deve tornare in Puglia con zero punti in saccoccia e qualche ferita da leccare seppur al cospetto di una squadra organizzata e forte la prossima settimana ci sarà subito l'occasione per riscattarsi al Ventura contro il Potenza